Dove è arrivata fino oggi? Bologna Anche Davide, ciao Davide Buongiorno Ascolta, facciamo una foto assieme Dai, ci mettiamo là Con le bici o senza, dai Con le bici allineate sotto la chiesa, foto Foto per la stampa allineati davanti alla chiesa Oh, la stampa Massimo indietro un pochettino allineiamoci dai Ok E il sindaco da salutare? 30 secondi si parte Vi accompagniamo che io ce l'ho a complanare Sì, non è così Scusa Scusa, eh, prendo. Questa bella media, dalla castella alla grafica, da che 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 c'è, su via quanti che la progetto dopo. Eh, per prendere il momento. Bravo! È chiamato che, a letto che se lo vogliamo, gli mette giù anche il panchetto. Sacca una roba! I ricca un primo dove, andava, dove c'è un problema, dove c'è un problema, una bandaglia di straccia, che che si traccia! C'è un bel piano! Lo abbiamo avvuto da qua, l'abbiamo fatta, eh! Sì? Sì! Sì! E non ho vissuto! Per quello che stiamo fatta anche qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, mi sembra che ci siamo tutti. Grazie a tutti. Wow! Grazie a tutti. Andiamo a arrivare la sopra. Sì, sì, è vero. Perché è statale proprio. Andiamo a arrivare la sopra. 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 Passo sinistra. Passo sinistra. Andiamo a arrivare la sopra. Alla sopra. Andiamo a arrivare la sopra. Alla sopra. Andiamo a arrivare la sopra. Andiamo a arrivare la sopra.